Crisi giunta del capoluogo, adesso c'è veramente aria di tempesta, perché se la questione era la divisione tra le forze di maggioranza e quindi Lega e Fratelli d'Italia, adesso la frattura è interna alla Lega. Arrivano voci dai palazzi della politica biellese su una richiesta avvenuta nelle scorse ore da parte del sindaco in modo ufficiale all'assessore al bilancio Silvio Tosi e sopra la richiesta era di fare un passo indietro, di dare le sue dimissioni. Fatto sta che Tosi non ci sta e ha promesso di vendere cara la pelle. In più ha sottolineato di essere sostenuto da ben due parlamentari, tra questi Molinari, ovviamente capogruppo della Lega addirittura a livello nazionale, la Patelli, anche un assessore regionale, Chiara Cauccino, nonché 4-5 consiglieri in comune. La richiesta arrivata da Fratelli d'Italia, così si vocifere in queste ore, menzionerebbe la dimissione e quindi l'allontanamento di Silvio Tosi con l'ingresso alla guida del bilancio della città di Paraggio, che come sappiamo circa un anno fa ha abbandonato Forza Italia per entrare tra le fila di Fratelli d'Italia. Marzio Oliviero al momento alla guida del Consiglio invece passerebbe ad Urbanistica a guidare il Consiglio e entrerebbe a sorpresa Gianni Ferrari. Allora, queste sono le ultime indiscrezioni. Certo è che non arrivano conferme ufficiali da parte dell'amministrazione, ma il clima è tutto fuorché tranquillo. È vero che da luglio ad oggi sono trascorsi molti mesi e quindi si deve arrivare ad una resa dei conti. La promessa di Silvio Tosi è quella di non mollare assolutamente, venderà molto cara la pelle.